Grazie Cosa cucini? Una poletta Ti preparo il kiwi Eh, va bene E' proprio delizioso, ottimo lavoro Grazie Attenti, in questo periodo stiamo guadagnando abbastanza soldi per permetterci un bel viaggio in coppa, che ne pensi? Ottima idea Già controllato un po' su internet, trovato già un utello, tutto a posto Dobbiamo solo andare in banca a prendere i soldi Andiamo? Perfetto Mio padre cos'è stupido che io ho rubato la pistola Adesso vado a fare una rapina in banca Yeeeey Dai, strighiamoci, che la banca chiude tra poco Questa è una rapina Ma quello non è tuo figlio Giuliano! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Possiamo andare da nostra sorella che ho sentito che fa la cartomante per risolvere sta maledizione Ehi! Vi ho visto in televisione a voi due! Hai derubato i nastri registrati di una banca! E adesso io da cittadino modello vi prenderò e vi sponderò le forze dell'ordine! Corri! Corri! Scappiamo! Corri! Sono stanco! Corri! 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 ... ... ... ... ... ... No, 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 no. Oh, Doro, no, 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 no. Ovviamente è successo un casino. È morta tutta la nostra famiglia e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Conosci un modo per far svanire una maledizione? Sì, posso farvi un rituale con le carte. Sì, per me. Ok. Nascondeli, nascondeli, nascondeli. E avanti. Buongiorno, signor. Buongiorno. Buongiorno. Peccato. Ha visto due ragazzi che stavano di qua? Uno alto, 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 alto. L'altro basso, 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 basso. No, no. Non è proprio sicura? Sì. Sicura, sicura. Sicurissimo. Sicuramente certa? Certamente sicura. Va bene. Arrivederci, signora. Prefittasci. Mi può dare un biscotto? Ma certo. Arrivederci. Me la pagherà questa. Allora, sorella, come si risolve questa situazione? Allora, secondo le mie carte bisogna sacrificare un membro della famiglia di almeno... Meno? Quarto grado. Quarto grado. Qui ci abbiamo la famiglia di quarto grado? Beh, oltre allo zio che è il presidente dell'Olanda... Altre idee? Dobbiamo uccidere in qualche modo. Stare lontani? Tieni questa. Mmm... No, boba vecchia. Ma dai! Fus, rada! Aldo! Aldo, è pronto? Aldo. Cos'è questo silenzio? Aldo? Oddio, Aldo! Aldo! Come? Non sapevo che non si riusciano i miei piatti. Vanno così schifo! La maledizione non finisce! Ciao! 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 Grazie per la visione!